Hello boy! La grande, meravigliosa pucella, la pulsella di Orléans, che fu sacrificata per non aver voluto tradire se stessa e tantomeno il suo regno. Invece qui abbiamo queste puzelle, che tra l'altro non sono puzelle per niente perché hanno ammesso certi strani rapporti, ma d'altronde ricordiamoci che, lo diciamo per i nostri amici che forse non sono informati, che esiste un'antichissima tradizione ad Aleppo e che è il famoso sapone di Aleppo, con il quale queste puzelle potevano detergere alcune... Un'abluzione di profumare... Esattamente, alcune loro poco pulsellesche imprese. Dopodiché lasciamo la parola all'estensore di questa importantissima denuncia nel pregarvi, cari amici, di bandirla, di andare nelle piazze con i tamburi come foste degli agenti di qualche sindacato a raccontare questa commendevola storia. Diceva una volta lo strillone, il banditore, anche in Sicilia fino a qualche decennio fa, abbiamo amici che se lo ricordano benissimo, c'era il banditore che corrullante andava in giro a dire le informazioni pubbliche. Ma io me lo ricordo negli anni Sessanta in provincia di Rieti e c'erano ancora i banditori, se no chi andava a sentire qualcosa? No, ma non sapevano leggere, la gente non sapeva leggere, quindi per forza... No, ma non sapeva nemmeno sentire, dovevi andare sotto casa a dire quelle cose, va bene. Bene, allora, care, carissime amiche, prendete esempio dalle pulzelle, però cercate di fare il contrario perché già le pulzelle, da buone pulzelle, come ho detto prima, ci sono costate la banalissima cifra di 12 milioni di dollari. Dopodiché la parola a Orazio. Bene, oggi siamo appena usciti, reduci appunto dal solito incontro con i responsabili della stazione dei Carabinieri qua della Storta, dove abbiamo depositato, e questo si è pure sbagliato, guarda, ci ha messo il 19 gennaio, tocca andarlo a rifare. Vabbè, è lo stesso. No, bisogna rifarlo. Sì, vabbè. Dobbiamo riandare di nuovo, sì. Oggi è il 19 gennaio. Oggi è il 19? Certo. Allora, mi sono sbagliato io, ho messo venti. Il 19 gennaio, oggi è San Mario, quindi oggi Magno deve pagare. Ah, auguri caro Mario, auguri. Allora, c'è stato un qui pro quo, correggeranno loro, è il 19. Esattamente. Allora, il 19 abbiamo depositato la querela contro una serie di personaggi, fra cui anche le signore pulzelle che abbiamo accenato prima, ma abbiamo anche, sempre al solito, reintegrato in questa cosa anche il signor Giorgio Napolitano, benché sia dimesso in data odierna, ma comunque all'epoca dei fatti era ancora lì a presiedere la nostra cara Repubblica e anche il Comitato di Salute Pubblica, no? In quanto lui, comandante della magistratura e comandante in capo delle massime cariche dell'esercito, della difesa. E quindi c'è il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, Laura Boldrini, Pietro Grasso, Paolo Gentiloni in quanto Ministero degli Esteri, e poi tutti i componenti del Consiglio dei Ministri, e poi in ultimo la Vanessa Mazzullo e Greda Ramelli. Per i seguenti presupposti e possibili atti di reato, alto tradimento, concorso, eccetera, eccetera, lascio alcuni, intelligenza con uno straniero, scopo di guerra, somministrazione del nemico di provvigioni, eccetera, eccetera, che dopo leggo con più dovizia. Se vi fai fare una piccola interiazione, questo è uno degli ultimi numeri di Panorama. E abbiamo nell'ultima pagina un articolo di una autrice in cui esalta la femminilità di queste due ragazze e esalta appunto come costoro, sono delle grandi donne che difendono la femminilità e tutto il resto. Ora, questo ci serva per dire come è facile falsificare la realtà, che invece i nostri amici sanno essere quella che noi stiamo denunciando. Questa è la verità, tanto che non potrebbe essere diversamente. Allora, le signore, ricordo che la Costituzione stabilisce alcune cose inderogabili, cioè articolo 52, la difesa della patria e sacro dovere del cittadino. Articolo 54, tutti i cittadini hanno dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione, in particolare, quindi anche questo signore qua avrebbe avuto l'onere di dover osservare i dettagli della Costituzione e le leggi, ovviamente. I cittadini poi a cui sono affidati le funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e d'onore, capito? Disciplina e d'onore. Invece che è successo? Queste due signore, invaghite del progetto demenziale della ricostituzione del califato e tutte le porcherie varie che si ruotano attorno a questa immensa cazzata abominevole in ritardo sulla storia di oltre mille anni, Nessuno crede, e per cercare di affalorare, di far credere a tutte queste idiozie hanno fatto partire l'attentato di Parigi, il fine è proprio, oltre a altri fini che noi conosciamo, tra cui anche l'assassinio di Bernard Mariette, e Marie, però serve per spaventare il mondo cosiddetto occidentale cristiano, però non ci crede più nessuno a queste balle. Allora, queste due ragazze, molto superficialmente edotte del problema sicuramente, ma poi anche molto raggirate da passioni di basso livello, senza entrare troppo nel dettaglio, ad un certo punto sono state convinte a convergere verso la Siria, entrando illegalmente dalla Turchia in Siria, quindi va detto anche che non erano lì come un clandestino che arriva in Italia senza documenti, loro erano lì in questa fattispecie. Esattamente. E chi le ha aiutate, viva Dio? Oh, è questo, è descritto benissimo nella prima parte della querela che poi ve l'andate a leggere. Dopodiché, le nostre signore non si sa bene che cosa abbiano fatto lì, perché andare a portare i medicinali non l'hanno portati, andare a portare aiuti ai bisognosi e ai malati non sembra che le abbiano portate. Andare a portare pezze per il culo, ancora meno. A un certo punto, non si sa come, il 31 luglio vengono catturate dai guerriglieri dell'Isis, i quali dicono tutta una serie di cose, ma per ricostruire il fatto basta semplicemente andare a leggersi quello che c'è scritto, diciamo gli strilloni del web e vedere cosa dicono i vari quotidiani, i titoli di… E giustamente tu hai riportato questi titoli per far vedere esattamente di che si tratta. Esatto. Perché la nostra denuncia non è campata per aria. Qui parliamo sempre di titoli di giornali di tiratura nazionale, quindi tutti, fino a prova contraria, da smentire e quindi in questo momento verità conclamata. Esatto, incontrovertibile. Incontrovertibile. Invertibile. Insomma, all'inizio di settembre, praticamente fino al 3 agosto, se mi ricordo bene, non c'era una situazione di belligeranza fra la comunità europea, Nato o Stati Uniti o Francia o chi sia contro l'Isis, ma dal 3 agosto praticamente sono state autorizzate dalla Nato i bombardamenti nei confronti dell'Isis. Dopodiché c'è stato un successivo incontro il 3 dicembre… Noi non sappiamo che cosa hanno bombardato, ricordiamoci bene. Comunque, ufficialmente, la Nato è in guerra contro l'Isis dal 4 o 3 agosto. Quindi, qua ci sono state altre poi lanci di agenzia, non entrano nel dettaglio, ve l'ho andata a leggere, e ad un certo punto pare che questi bombardamenti comunque siano stati del tutto inefficaci, perché, a quanto pare, l'Isis addirittura è tornato di nuovo a Kobanè che… Evidentemente non dovevano bombardare l'Isis. Ecco, c'era qualche altra cosa. E comunque, qui gli Stati Uniti, la Francia e altri paesi Nato e anche non Nato, tipo per esempio gli Emirati Arabi, sono in guerra con l'Isis. E forse lo siamo anche noi senza che sia apparsa notizia sui giornali, cioè non è stato comunicato ufficialmente, ma essendo la Nato in guerra con l'Isis, ovviamente siamo in guerra con l'Isis. In ogni caso, appunto, i nostri neri sono in guerra contro l'Isis e che sia stato comunicato o meno siamo in guerra con l'Isis. Già per il solo fatto che i nostri alleati della Nato siano in guerra con l'Isis. Perciò stesso anche noi dobbiamo considerare l'Isis nostro nemico. Con tutte le conseguenze del caso, vedi articolo 268 del codice penale. E quindi il signor Paolo Gentiloni, attuale Ministro degli Esteri, tra alcuni dei suoi sottoposti e colleghi di vario ordine e livello, comprese il Presidente della Repubblica e i vari Presidenti dei Rami del Parlamento, nonché tutti i componenti del Consiglio dei Ministri, presumibilmente hanno desibitito a questi precisi dettati costituzionali, cioè quello che ho letto prima, la difesa della patria e la fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione. E qui a questo punto bisogna fare una piccola deviazione. E voglio far presente ai nostri amici che cosa è stato il patto Gentiloni, per cui noi possiamo dire che questo qui di adesso è un secondo patto Gentiloni. Che cosa è stato il patto Gentiloni? È stato un accordo semisegreto avvenuto nel 1913 con uno scambio di voti, perché l'accordo c'è stato tra Giolitti e i giolittiani con una particolare organizzazione che era la Lega per il voto dei cattolici, gestita all'epoca da tale Gentiloni, il quale ha preso degli accordi molto chiari e molto stretti con Giolitti, secondo cui Giolitti avrebbe accettato che i cattolici votassero e i cattolici avrebbero votato immarcescibilmente per Giolitti. Questo è il famoso patto Gentiloni. Nulla ci può togliere dalla testa che qui noi abbiamo a che fare con un secondo patto Gentiloni, dove in questo caso al posto di Giolitti Gentiloni si chiama sempre lui e dall'altra parte al posto di Giolitti può darsi che ci sia la Isi stessa, poi ce lo diranno i cronachisti fra qualche decennio. I magistrati se salzandolo personalmente ad indagare. Comunque, tralasciando in questa prima fase la responsabilità delle due collaborazioniste, chiamiamole con il loro nome perché in guerra chi coopera, le cooperatrici, le cooperanti le chiamano, chi collabora o coopera con il nemico è un collaborazionista. Un traditore. Collaborazionista che è indicativo della facoltà, della funzione di tradimento. Esattamente. Quindi, tralasciando i due collaborazionisti e tralasciando momentaneamente e parzialmente la loro posizione, occorre focalizzare e puntare l'attenzione sul comportamento tenuto dal nostro governo e in particolare dal ministro Paolo Gentiloni, che con le sue precise e precise prese di posizione ha assunto responsabilità certamente non giustificabili e coerenti col dettato dei seguenti articoli del codice penale, con ciò rendendo concretamente supponibili talune o tutte le fattispecie dei seguenti possibili reati. Quindi, articolo 243 del codice penale. Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compie atti di ostidità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri atti diretti allo stesso scopo, è punito. Articolo 246. Corruzione del cittadino da parte dello straniero. Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sì o per altri, denaro a qualsiasi utilità o soltanto ne accetta la promessa, al fine di comprare atti contrari all'interesse nazionale, è punito. E questo è un atto contrario all'interesse nazionale perché 12 milioni di dollari stavano meglio in tasca al governo italiano e ai cittadini italiani. O meglio, al governo italiano no, perché è composto di ladri. Ma gli italiani probabilmente sì. E poi, articolo 248, peggio ancora, è molto più stringente questa modalità, somministrazione al nemico di provvigioni, chiunque in tempo di guerra somministra anche indirettamente allo Stato del nemico provvigioni, ovvero altre cose le quali possono essere usate a danno allo Stato italiano, è punito. E con questi 12 milioni di dollari ci comprano armi che usiranno anche contro di noi o a Parigi, o a Madrid, o a Londra, dove cazzo sia, sia. Cioè, è qui il concetto, qui non... A proposito di provvigioni, di approvvigionamenti, queste due ragazze che chiameremo, continueremo a chiamare le pulselle, perché ci va di chiamarle pulselle, cioè fa ridere, insomma, questa cosa, mi ricordano molto le vivandiere che c'erano negli eserciti una volta, che svolgevano... A seguito delle masserie, masserizie. A seguito delle vivandiere, che chiamavano vivandiere, che cosa poi fornissero ai soldati... Un po' tutto... Lo lasciamo pensare a noi... Cordiale... E poi c'erano il cordiale... Il cordiale... Avevano un atteggiamento molto cordiale... E spesso ritornavano a casa arricchite... Andiamo, proseguiamo... E non è detto che queste signore non siano tornate arricchite, eh? Ma di quello è sicuro, perché qualcuno mi dovrebbe dire dettagliatamente, dollaro dopo dollaro, a chi sono andati a finire questi 12 milioni di dollari, mi piacerebbe veramente di saperlo... Con la ricevuta, eh? Ancora... Accettiamo anche la ricevuta scritta in arabo, guarda... Allora, ancora, articolo 249... Chiunque in tempo di guerra partecipa a prestiti, ancora più stringente, o versamenti in favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni a destra relativa, è punito. Quindi, signor Gentiloni, che dice che non è vero, che sono stati pagati penali e quant'altro, dice cazzate. Poi ci arriviamo. Allora, 250, articolo 250, commercio con nemico. Qualora il cittadino o straniero dimorante del territorio dello Stato, il quale in tempo di guerra, o fuori dai casi indicati dall'articolo 248, commercio anche indirettamente con i sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico è punito. E poi, ed è qui la conclusione del ragionamento, parificazione dei Stati alleati, articolo 268. Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti, quelli che ho elencato qui, si applicano anche quando il diritto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato a fine di guerra con lo Stato italiano. Allora, siccome noi facciamo parte delle Nazioni Unite, della Nato, di tutte le altre varie organizzazioni internazionali e soprattutto europee di difesa dicendevole, quando qualcuno fa un reato contro uno degli Stati dei nostri alleati, fa un danno a noi e quindi pure se noi non fossimo in guerra, ma il che non è perché noi siamo in guerra, anche se non ce l'hanno mai notificato, andatevi a vedere le note ufficiali e troverete che c'è uno Stato di guerra, perché i bombardamenti non è che si fanno a casa degli altri per caso, si fanno solo dopo una dichiarazione di guerra. Va detto, a questo proposito, che cosa dice il web? E quindi seguiamo l'excursus dei titoli web che abbiamo visto già prima, li abbiamo rimandati, ma li ho elencati. Sempre a tiratura nazionale in merito alle due collaborazioniste. E quindi dice, insomma, loro hanno affermato di non avere nessuna responsabilità nel rapimento, però allora qui ci devono spiegare come mai, qui c'è questa foto in apertura che è la rappresentazione di un video che è stato messo in rete, certamente non da me, in cui una legge il manifesto in cui c'è scritto la data in cui si è svolta la registrazione e la signora che sta qua a fianco che dice, per favore, pagate il riscatto perché vogliamo essere liberate. Allora, adesso hanno detto che poi fra l'altro torneranno presto in Siria. Mi pare giusto, vanno a prendere il malloppo. Allora, e quindi loro dicono, insomma, aspetta che lo licito, supplichiamo il nostro governo di riportarci a casa, lo dicevano fino a qualche giorno fa e poi tralasciamo ed infine arriviamo al signor Paolo Gentiloni, il quale va l'altro ieri in Parlamento e molto ambiguamente va a raccontare delle menzogne plateali, menzogne che sono già state smentite ma saranno ufficialmente smentite e dovrà, secondo me, se rimane un briciolo di immagine a questa Repubblica, a questo governo, a questo personaggio dovrà obbligatoriamente da segnare le dimissioni. Voglio ricordare due cose da questo punto di vista, ci sono due esempi che abbiamo tutti nella nostra memoria. Il primo è l'esempio del Watergate in cui Nixon mentì e alla fine fu costretto a dare le dimissioni. Il secondo è il caso più eclatante che ha coinvolto Clinton, il quale fu sedotto dalla classica spia dei servizi segreti israeliani, che tra l'altro non nascondeva nemmeno di esserlo, con il suo cognome molto chiaro, e quindi questi due hanno dovuto in un modo o nell'altro girare per la tangente e tornisi dai coglioni. Diciamo pure che negli Stati Uniti succede di tutto e di più, però in questi casi, a fronte di una menzogna, loro hanno dovuto girare i tacchi e tornisi dai coglioni. E prosegui pure. E quindi va in Parlamento e oltraggia il Parlamento mentendo spudoratamente. In questa vicenda è iniziata alcuni mesi o sono, è stata messa in atto tutta una sceneggiata composta da una sequela di ignominie e di infamità, di incomparabile minimalista continuità, perché di una bassezza progettuale, questa messa in scena, che è veramente bambinesca, proprio di una... come si dice? Un infantilismo. Un infantilismo, ecco. Integrale, sono tutti bambini. Di una incapacità proprio... Non a caso, guarda. Di indiazione assoluta. Allora, non a caso, il direttore della rivista Panorama, che non è l'ultima rivista in Italia, ha scritto un fondo intitolato, come è scritto qua? Vieni avanti, invece di dire vieni avanti cretino, dice vieni avanti premierino. Ma più di così che cosa ti deve dire? Ha un capo di governo che gli deve dire? Il direttore della più prestigiosa rivista italiana. E' sempre la prima, la seconda, al massimo la terza rivista mensile che c'è? No, no, che mensile, tanto è settimanale, scusa. E questo, perché gli italiani leggono il settimanale, questa è la più importante, quali sono gli altri? Certo, certo. Il rapporto tra Panorama e Espresso è una 10, ormai, che l'Espresso è proprio fuori gioco, sta fallendo nel vero senso della parola, assieme al fallimento generale della produzione, della produzione, di Benedettiana, no? Quindi questa è la rivista più importante. Anche della sinistra. E' la rivista più importante. Vieni avanti premierino. Ma dico, cazzo che cosa devo dire? Andiamo, va a procedere. E quindi il giornale, per esempio, fa da banditore e apre, di ieri, la bugia di Gentiloni per nascondere di scatto. Il libero quotidiano, 8 e mezzo. Paolo Gentiloni ha quella domanda, con una domanda in casa il ministro può rispondere, eccetera, no? Oppure il Corriere che dice, ma mentre il ministro non è di essere di Paolo Gentiloni parli di illazioni, i riferimenti di scatto che sarebbe stato pagato, la Lega Nord attacca e quindi dovrà per forza uscire. Insomma, la ciliegina sulla torta è atto per il momento finale di tutta la vicenda, è che l'altro ieri, due o tre giorni fa oramai, quando le due collaborazioniste che in altro momento, in altra epoca sarebbero state impiccate, seduta stante, non appena messo il piede sul territorio italiano, perché in fase di guerra ti impiccano o ti sparano alla schiena, questo signore invece che cosa ha fatto? è andato a Ciampino, in pompa magna con tutta la banda a seguito e le ha accolte come se fossero addirittura con le telecamere, con le interviste, le dichiarazioni, cioè una figura più infame, più vomitevole, non poteva metterla in atto. Ben inteso, una banda a base di caccavelle, di putipù, di scetate, faiasse, capito? E questo lo dice il quotidiano, lo dice la Repubblica, lo dice, eccolo qui il nostro bel tomo, lo dice la bugia, ecco di nuovo il giornale di ieri, il giornale di ieri, e poi ancora l'eco di Bergamo di due giorni fa, e poi ancora TG24 Sky. Ma è uno schifo. E che cosa dice, infine, Dulcis in fondo, il signor Gentilone, grande umanista, dice un grande paese si impegna a proteggere e salvare la vita dei propri cittadini sequestrati. Io dico, ma chi cazzo vuoi prendere per il culo? Brutto, stronzo, infame. Gentiloni, sei un infame. Voglio concludere io. No, aspetta. E quindi che cosa succede? A questo punto è da ritenere di essere dei benpensanti, ma noi, come detto, pensiamo molto male, perché a pensare male si fa sempre bene. Come diceva di grande Andriotti. Ecco, è un ossimoro logico, non un ossimoro operativo. Si dovrebbe ritenere che il signor Paolo Gentiloni non ha la minima idea del dettato legislativo nazionale, ed è pure un ignorante, un perfetto ignorante somaro, no? Altrimenti non sarebbe fare le affermazioni qui, sia sopra che sotto, elencate. E qui lo dice pure ADN Cronos, il governo italiano non paga riscatti, dice Gentiloni, lo dice, ma poi vediamo se la verifica sarà fatta o meno. Lo dice l'Aggi, l'unità di crisi, tutto il lavoro di squadra, il lavoro di squadra, il quotidiano, 12 milioni, un riscatto di 12 milioni. Ma se l'ho inventato questo? Cioè, se, allora, quello che scrive un qualunque cittadino, e a maggior ragione anche un organo di stampa accreditato ufficialmente da decenni, da secoli di esistenza, è fino a prova di sentenza contraria, è vero, e quindi se nessuno li denuncia, li guerela, vuol dire che quello che dicono i giornali è vero. Ma non solo, ma anche la precisione della cifra. Se la cosa fosse incerta, i giornali scriverebbero, secondo noi, secondo la nostra ipotesi, è stata pagata una cifra. Infatti, è chiaro che il signor Gentiloni in questa vicenda ha dimostrato il peggio di sé, manifestandosi per nulla collaborativo e trasparente, tanto che si è venuti a sapere dell'avvenuto pagamento di un riscatto probabilmente di 12 milioni di dollari da organi di informazione vicino all'ISIS. Comunque le informazioni arrivano, se non le dici te le dice l'altro. Ecco, appunto, che il sospetto prende l'ordine... Spuntalato persino dall'ISIS. Certo, è dimensione molto più rapidamente di quanto era possibile prevedere solo un po' che vorrebbe fare. E infatti, se quanto ha affermato dai giornali in queste ultime ore tutto il peggio di noi sospettato, prende consistenza, verificabilità fondamenta. E quindi anche gli ultimi sviluppi, ecco qui, crolla l'alibi pacifista, no? E se lo dice il giornale vuol dire che è evidente Cristo. Crolla l'alibi pacifista, anche di 47 minuti fa, stanotte. E se lo dice, la ricevuta è interessata da Vanessa Marzullo, che certifica l'acquisto o di qualche cosa, insomma, telefonato con l'amichetto che le ha probabilmente portate lì, che si chiama Taieb, registrate dai Ross. Registrate dai Ross. Quindi non è che ce lo inventiamo noi, non è che è una supposizione del pubblico e del cittadino della strada che sospetta sempre il peggio. Qui ci sono documenti, fiori di documenti. Ovviamente noi non li abbiamo riportati, non li abbiamo portati che non servono. saranno i giornali citati che avranno poi la loro documentazione. E se fosse un solo giornale potremmo dire che è uno scopo, un falso, eccetera. Mentre siccome lo dicono tutti i giornali seri... Ho preso una grande agenzia di stampa, l'AGI, che non puoi assolutamente pensare che dica a te la parola. Per concludere, abbiamo già parlato in altri video di questo importantissimo libro, che è un libro che è stato pubblicato negli anni oggi impensati e che documenta quanto fosse importante, ed è tuttora importante la Siria per gli equilibri mondiali e questa è la ragione per cui i loro signori l'hanno attaccata. E questa è la ragione per cui... Fa parte delle aree di confine del mondo. Esattamente. La Russia la difenderà ad oltrazza. Per far capire come stanno le cose mi limito a leggere una piccola annotazione in modo tale che si capisca di che si tratta e che riguarda un tutt'uno, perché il tutt'uno non è la solo Siria, ma è anche il Libano, allora il tutt'uno è Siria-Libano, ecco perché loro vogliono in qualsiasi modo rompere l'unità della Siria, ricordiamoci che questa fu una presa di posizione italiana, l'Italia era interessata a tenere la Siria per intero, perché ovviamente su una serie di ragioni di carattere geopolitico che diremo in un secondo tempo, ma voglio leggere le disavventure che riguardano questi paesi, che non sono di oggi, ma di circa esattamente cento anni fa, che è come se fosse ieri. In sostanza il Libano potrebbe dirsi il ramo di un albero nato sul terreno suriano, ma tralcio sviluppatosi da un ceppo unico o meglio una filiazione della Siria e senza la Siria non si concepisce né si spiega la storia del Libano, ma non sembra che la Francia abbia attenzione, la Francia è sempre stata interessata con queste zone. In Libano e soprattutto c'è sempre avuto il piedino. Non solo, ma alla Francia andò il protettorato della Siria e anzi ricordo che le truppe francesi che difesero la Siria contro gli inglesi nel 1943, mi pare 42-43, erano di Vichy. Esattamente, fedeli allo Stato francese con capitale Vichy, che combatterono con molto eroismo contro gli inglesi che erano riusciti a vincere la ribellione irachena perché stupidamente le truppe dell'asse non aiutarono la ribellione irachena e le conseguenze continuiamo a pagare oggi, dal 1942 a oggi e però è interessante vedere come la linea difensiva della Siria fosse chiaramente in senso anti-inglese anche durante quel periodo, è chiaro che c'era una strategia francese, indipendentemente dal fatto che si trattasse o meno della Francia di Vichy a tutela di quella zona contro l'invadenza inglese, è chiaro o no? L'inverenza e l'ingerenza. Esattamente. Ma non sembra che la Francia abbia tenuto conto di tutto ciò quando in virtù del mandato conferito dalle potenze ha creato un Libano artefatto e ha proposto un ordinamento che dovrebbe in via permanente separarlo dalla Siria e questa è la prima fase di separazione di un troncone della Siria. Ci riserviamo di esporre in dettaglio e a suo tempo gli avvenimenti ultimi, ma per ora, per non distrarre dal filo del nostro ragionamento, vi accenneremo di sfuggita. Scoppiata nel 1914 la guerra mondiale, fu inviato da Costantinopoli in Siria niente popol di meno che Gemal Pasha, il quale, occupato in Libano, vi istituì una corte marziale, obbligò quel governatore generale a dimettersi e lo sostituì con tre Mutes Arif da lui direttamente nominati. Nel 1918 gli alleati occuparono Damasco, crearono un governo provvisorio nel Libano finché nel 1918 sopraggiunsero i francesi. Allora il patriarca maronita partì per Parigi allo scopo di perolare presso la conferenza della pace la creazione di un grande Libano. attenzione, è importantissimo la presenza dei maroniti che adesso stanno concurcando in tutte le maniere e stanno cercando di espellere anche fisicamente, cioè ammassandoli. L'8 ottobre 1919 il generale francese Gouraud si insediò in Siria, alto commissario e comandante delle truppe del Levante e a lui gli inglesi cedettero le zone siriane settentrionale e occidentale da essi occupate. Intanto l'8 marzo 1920 Lemiro Faisal, attenzione, veniva da un congresso nazionale siriano eletto re di Siria. Quattro mesi più tardi il generale Gouraud ne sconfiggeva le truppe, occupava Damasco e Aleppo, ossia anche la Siria interna e il re Faisal se ne ritiravano. Un'insurrezione turca scoppiava al nord, nei territori di Aintab, Marasce e Uffa, occupate dai francesi i quali finivano con ritirarsi. Intanto ecco l'ingerenza della Turchia e siamo sempre lì, i quali finivano con ritirarsi. Intanto con tre decreti, 31 agosto 1920, al generale Gouraud sanzionava l'ingrandimento del Libano attribuendo a quello tradizionale regioni che fino allora non avevano mai fatto parte. Altro progetto di smembramento della Siria. Certo, certo. E cioè il San Giacato di Tripoli, il Kazà di Balbec, quello della Bekaa, di Rasseia e Asbeia, il San Giacato di Saida e il municipio autonomo di Beirut. All'epoca era un municipio autonomo, Beirut. Così la Francia, la quale ha sempre dimostrato una spiccata predilezione per i maroniti, mi piacerebbe vedere adesso cosa stanno facendo loro a difesa dei maroniti, avendo aumentato il numero dei musulmani conglobati nel Libano, ha reso più sensibili le diffidenze di quegli ultimi e quindi più facili i motivi di dissidio religioso e perciò più probabile la giustificazione di rimanervi, essa quale tutrice permanente e quale sentinella perpetua, col pretesto di garantire l'ordine instabile da lei favorito. Cosa significa? Significa che per garantire, per poter giustificare la presenza della Francia, dell'Inchilterra, degli Stati Uniti e quant'altro, si cerca sempre di fomentare le guerre interreligiose in quelle zone. Quindi bisogna capire anche questo, quando i media esaltano la presenza di guerre religiose è semplicemente perché devono trovare la giustificazione per la presenza occidentale in quegli ambienti, è chiaro, compresa l'invenzione del tutto comica, perché è del tutto comica, dell'Isis, perché l'Isis è una creatura americana, del Mossad, ha dato in sostanza esca agli irredentismi con l'incorporazione di distretti propriamente non libanesi, creandosi una giustificazione per rimanere a vigilare un ordine per natura malfermo. Ma non è a credere che questo artificio sia sfuggito a tutti nel Libano, poiché molte delle simpatie dell'elemento maronita che erano le sole su cui la Francia potesse contare le stanno venendo meno, specialmente tra le generazioni giovanili. E qui vi voglio ricordare che la crisi del Libano, a suo tempo che noi abbiamo vissuto con quelle stragi terribili tra cristiani, ma quella guerra civile interna, imbaroniti, cristiani, stragi terribili, faide interne, Gemmaiele, ti ricordi Gemmaiele? Questa fu voluta da Kissinger ed è molto interessante e diciamola tutta, quando Andreotti fu accusato per non aver vigilato in maniera adeguata nei confronti di certe stragi avvenute in Italia, compresa la bomba alla stazione di Bologna, Andreotti si giustificò dicendo che invece di accusarci ci dovreste ringraziare perché Kissinger aveva programmato per l'Italia quello che poi è stato realizzato nel Libano e questo lo diciamo ai nostri amici in modo che sappiano e che sappiano anche che noi la storia la conosciamo. il generale Gouraud creò uno stato indipendente del grande Libano e vi pose a capo non un governatore indigeno ma uno francese ed istituì altresì una federazione siriana conglobante i tre stati di Damasco, Aleppo e gli Alaviti, guarda un po' che cos'è oggi la Siria, è una confederazione di tre stati, Damasco, Aleppo e Alaviti, con i suoi successori si verificarono altre modificazioni sinché l'alto commissario senatore De Juvenel, il famoso ambasciatore De Juvenel ebbe a creare una repubblica parlamentare di Banese, tutti questi cambiamenti che saranno in seguito oggetto di particolare indagine, non soltanto non sono in accordo con le finalità del mandato ma neanche con le vere finalità della storia e delle tradizioni libanesi e siriane. E qui noi concludiamo ricordando che l'interesse geopolitico dell'Italia è esattamente combacia con l'interesse della Russia nel mantenere intatto il potere siriano, nel padere intatto il territorio siriano e quindi questo interesse è o lo Stato o il governo italiano lo asseconda e con ciò facendo gli interessi reali geopolitici o il governo italiano è traditore, punto e basta. So long!